Il sì dei dieci nuovi sacerdoti che con la vita hanno risposto alla chiamata di Dio è risuonato nella Basilica Vaticana, dove Papa Francesco ha preseduto la Messa per la loro ordinazione. Tra di essi sette italiani, un peruviano, un messicano e un giovane proveniente dalla Zerbegian, formatesi in vari seminari ed età compresa tra i 26 e i 38 anni. Dialetti dal Signore li ha definiti il Papa nell'Omelia, chiamati non per far carriera ma per compiere un servizio, partecipi così della missione di Cristo. Nelle varie aggiunte abbraccio, Francesco ha chiesto di leggere e meditare la parola di Dio, di dispensarla con gioia. Sia dunque nutrimento al popolo di Dio la vostra dottrina, semplice, come parlava il Signore che arrivava al cuore. Non fate omelie troppo intellettuali e elaborate. Parlate, parlate sempre, parlate ai cuori. E questa predica sarà vero nutrimento. E anche sia gioia e sostegno ai fedeli il profumo della vostra vita. perché la parola senza l'esempio di vita non serve. Meglio tornare indietro. La doppia vita è una malattia brutta nella Chiesa. Essere dunque ciò che si proclama, ma con il cuore. Non accademici, ma portatori della croce di Cristo. Misericordiosi e non ipocriti, ma soprattutto accanto a chi soffre. Anche se può sembrare noioso, ha aggiunto il Papa, andare a trovare gli ammalati è toccare la carne di Cristo che santifica. L'ultima raccomandazione è stata quella di essere gioiosi, anche in mezzo alle sofferenze, alle incomprensioni, ai propri peccati. Non siate signori, non siate chierici di stato, ma pastori, pastori del popolo di Dio.